Tanto tempo fa, il buon re di Inghilterra Riccardo Cuor di Leone partì per una crociata in terra santa. Durante la sua assenza, il principe Giovanni, suo abito e sleale fratello, usurpò la corona. Robin Hood era l'unica speranza del popolo. Egli derubava i ricchi per sfamare i poveri. Il popolo lo adorava. Ci sono un'infinità di leggende e di racconti fantastici su Robin Hood, e tutti diversi. Beh, noi del regno animale abbiamo la nostra versione. Ed eccovi la storia di quel che accadde nella foresta di Sherwood.